Io direi di cominciare subito per rispettare i tempi al netto del quarto d'ora accademico di cui parlava il Presidente. Ringrazio innanzitutto per questa opportunità del tutto immeritata che mi viene data di essere qui e di parlare. Siamo un tavolo abbastanza vasto, numeroso, il tempo è relativamente ristretto, per cui più che fare domande ai singoli, io penso di porre alcune questioni. Poi tutti saranno liberi di rispondere, di interpretarli o semplicemente di ignorarle come vorranno. Ovviamente invito il Presidente De Bernardinis a intervenire quando e come vuole con noi, perché le sue stimolazioni sono straordinariamente efficaci. Il primo dato, mi viene da dire, che volevo sottoporre ai nostri interlocutori, riguarda proprio l'importanza dei dati. Noi la diamo per scontata. Prima Realacci parlava del risparmio energetico. Io ricordo quando ho iniziato il mio mestiere di comunicatore della scienza, una riunione al Ministero dell'Ambiente con l'allora Ministro Ruffolo e c'era un amico che era Giancarlo Pinchera, penso sia stato uno dei pionieri della teoria del risparmio energetico in Italia e quello di cui ci si lamentava da un lato era una politica di risparmio energetico, dall'altra la mancanza di dati omogenei. Non si conosceva lo stato del Paese e quindi era uno dei tasti su cui sia Ruffolo sia Pinchera avevano. Oggi noi ce li abbiamo questi dati, li abbiamo quasi per scontato, mentre è una conquista che va appunto ripresa, riconquistata giorno per giorno. E quindi l'importanza dei dati. I dati devono essere ovviamente dei dati, il Presidente giustamente parlava di informazione validata più che di dati, devono essere dei dati rigorosi, dei dati validati e come se non attraverso un sempre maggiore potenziamento della ricerca scientifica, quindi della scienza che c'è dietro sia la raccolta dei dati sia la progettazione e la rimodellazione continua per avere dei dati sempre più rigorosi e precisi e soprattutto per sottolineare un altro degli aspetti già enunciati dal Presidente è la tempestività. Ovviamente lo scienziato può anche accontentarsi del dato rigoroso che magari viene dopo qualche tempo, ma il politico ha bisogno dei dati che avvengano, che intervengano con estrema tempestività. È un po' meno interessante per il politico ciò che avveniva dieci anni fa. Gli serve sapere soprattutto quello che sta avvenendo oggi. Quindi l'importanza dei dati, la ricerca, il rigore, la tempestività. Un secondo elemento che volevo mettere in evidenza che offro a voi è quello dell'accesso ai dati. Molti dicono, e io ne sono convinto per quel che vale, che viviamo nella cosiddetta società della conoscenza, che deve essere sempre più una società democratica della conoscenza, che si fonda sulla partecipazione dei cittadini. E in questa società della conoscenza l'accesso ai dati è un diritto della cittadinanza. E quindi operazioni come quella che fa l'ISPRA mi sembrano che vadano incontro a questo diritto emergente, questo nuovo diritto di cittadinanza scientifica che emerge in questa fase della storia non solo italiana ma mondiale. Volevo ricordare che per esempio questo tema, quello degli open data, quello dell'open science, viene molto dibattuto anche in ambito scientifico e oggi sta caratterizzando il dibattito anche a livello epistemologico su questo fronte. Quindi l'accesso ai dati ambientali come diritto nella società democratica della conoscenza. E terzo, forse più pregnante rispetto a questa giornata, è cosa ci dicono tutti i dati che abbiamo ascoltato e che ci ha presentato il direttore La Porta. Io ho visto anche, sottolineati i successi, non vorrei entrare minimamente in polemica con Realacci, però ho visto, sottolineato i successi in questi dati. Per esempio il successo che si è registrato nell'abbattimento delle emissioni dei gas climalteranti, dei gas serra in particolare, di altri inquinanti dell'aria. Anche nell'ambito dei rifiuti sono diminuiti, sarà stata anche in parte la crisi economica, ma certo questo è un dato che quantomeno va consolidato, la diminuzione dei rifiuti, è aumentata la differenziata, quindi sono aspetti positivi. Ovviamente ci sono gli aspetti critici, non sempre la qualità dell'aria è in miglioramento, per quanto riguarda il particolato in alcuni aspetti invece in peggioramento. Abbiamo un punto critico nel dissesto idrogeologico, un punto molto molto critico nel consumo dei suoli. Ho visto un andamento di crescita addirittura lineare, come se fosse indifferente alle nostre prestiti posizioni, alle nostre politiche, e questo è abbastanza. E poi un altro elemento che noi dei media in genere trascuriamo moltissimo ed è l'inquinamento acustico. È stato sottolineato come questo inquinamento acustico sia oggi parte del tema ambientale molto molto importante. Ultimo, ma non ultimo, è la grande diversità che c'è nel Paese. Siamo un Paese lungo anche da un punto di vista ambientale. C'è una diversità tra le regioni e c'è una diversità persino all'interno delle regioni. Mi ha colpito un dato in campagna, non so se l'ho letto male, ma ho visto che mentre la raccolta differenziata è addirittura esplosa in alcune parti della regione, nella città di Napoli proprio invece è un po' più stabile e tende addirittura leggermente a diminuire. E come mai? Perché? Cosa possiamo fare? Bene, penso di aver parlato davvero troppo e quindi do la parola ai nostri interlocutori. Inizierei da Filippo Brandolini, presidente di Federambiente. non c'è, iniziamo bene. E allora Monica Cerroni, presidente della Fise al suo ambiente.